Abbiamo presentato un concordato in bianco per l'ammissione ad una nuova procedura concordataria dopo che il giudice di Arezzo si è dichiarato non competente e ha trasferito tutto a Milano. A confermare alla nostra redazione che FIMER ha appunto presentato un nuovo concordato al Tribunale di Milano è Luca Bertazzini in rappresentanza del CDA dell'azienda. La conferma era arrivata anche dal fondo Greibull McLaren. Dopo il decreto del Tribunale di Arezzo la questione giuridica si è trasferita in Lombardia e prima che il Tribunale fissi l'udienza per lo stato di insolvenza l'azienda ha dunque deciso di presentare richiesta di concordato. All'interno del documento sono stati ricordati 5 probabili investitori, conferma Bertazzini, tra questi anche il fondo Greibull McLaren. Abbiamo sostanzialmente, dice riportato al Tribunale di Milano, la stessa istanza che avevamo presentato al Tribunale di Arezzo. I nomi dei possibili investitori sono gli stessi, oltre a McLaren ci sono altri due fondi, uno tedesco e uno di Hong Kong, con cui abbiamo avviato un intenso dialogo. Per quanto riguarda il fondo Greibull McLaren, Bertazzini conferma che le trattative sono tutt'altro che interrotte. Siamo in discussione, dice, sono stati fatti parecchi progressi e ci sono alcuni punti molto importanti da finalizzare, ma l'ipotesi non è mai stata esclusa.